Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa contemporanea che offre uno sguardo intimo autentico della complessità umana che si cela dietro le serrande delle botteghe. Attraverso le storie, il lettore può comprendere meglio la complessità delle relazioni umane, la resilienza di fronte alle difficoltà e la capacità di trovare speranza anche nei momenti più bui. La trama del libro Via San Maurilio racconti di una milanese chic della scrittrice Rossella Bentini. Casa editrice Pendragon è la seguente. Milano è una grande metropoli ma anche uno scrigno dei segreti. Tra le sue vie e i suoi negozi, dietro alle tipiche clere, le saracinesche, si nascondono esperienze intense e profonde ed è proprio nell'abbassarsi di una serranda in via San Maurilio che prende avvio questa raccolta di storie piena di vita. Quella vera, quella che non fa sconti e può portare i protagonisti a un passo dal cielo per poi lasciarli precipitare a terra. In questa città i personaggi dei racconti che leggerete muovono i propri passi, narrano le proprie vicissitudini personali. Da Angela, ricca bottegaia dal passato sofferto, al timido e impacciato Nino, sia nei coniugi Colombo, coppia di commercianti costretti a fare i conti con la crisi che ha travolto le piccole realtà artigianali e imprenditoriali. Affare da collante tra queste vicende è la voce di una ex antiquaria, anche lei con una storia difficile, eppure pronta a riabbracciare la vita e a ripartire insieme a coloro che l'accompagneranno nel nuovo percorso. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.